Per vedere il successo del Benfica per 2-0 sui norvegesi dell'Illestrom, forse qui ci si aspettava una goleada, invece il punteggio è stato abbastanza streminzito. 2-0, questo è il gol del danese Manniche che da molti anni gioca nel campionato portoghese, Manniche porta in vantaggio il Benfica nel primo tempo. Un gol per tempo, ecco l'azione ripetuta della prima rete realizzata appunto dal giocatore danese Manniche con una serie di palleggi nell'area di rigore avversaria, un'area di rigore come vedete affollatissima però Manniche è il più pronto di tutti a sgusciare sulla respinta del portiere e a mettere in rete. Questo è il punteggio 1-0 del primo tempo, nella ripresa il raddoppio di Nunez, anche qui area molto affollata però questa volta i difensori hanno fatto un grosso pasticcio e alla fine Nunez è riuscito a segnare Cerno tre giocatori del Benfica a un passo dalla linea di gol con questa palla regalata dai difensori norvegesi al Benfica che fa 2-0 col gol di Nunez.